Porca troia che nervoso! Porca troia che nervoso! Porca troia che nervoso! Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video sul fantacalcio, come è andata il fantacalcio, come è andata la giornata del fantacalcio del nome della Rosa. Porca troia che nervoso! Porca troia che nervoso! Nome della Rosa che pareggia 2-2 contro il Big Tettapig. Un pareggio arrivato in un modo che veramente mi fa saltare il sistema nervoso. Se vedete per caso degli strani corpi che volano per aria, sappiate che quello è il mio sistema nervoso che è esploso. Comunque, andiamo subito a vedere il punteggio delle due squadre. Partiamo dal mio avversario Big Tettapig che ha totalizzato 73 punti. Milinkovic Savic 7, più 1 per il clean sheet. Cambiaso 5,5 Gianluca Mancini 6 Pavar 6,5 El Sharawi 6,5 Gendusi 7,5, più 1 per l'assist. Pessina 3,5 meno 1 per l'espulsione Roberto Pereira 7,5 più 1 per l'assist Pinamonti 5,5 Marco Sturam 6,5 Leao 11,5 gol più assist. Passiamo adesso ai voti del nome della Rosa. Nome della Rosa che ha totalizzato 77 punti e mezzo. Per mezzo punto! Per mezzo fottutissimo punto! Porca troia che nervoso per mezzo punto! Mi è saltata pure la penna. Comunque Cesni 5, meno 1 per il gol subito Biraghi 5, meno mezzo punto per l'ammunizione Scalvini 7 Ocoli subentrato 5 Selemekers 11,5 gol più assist Reinders 7,5 più 1 per l'assist Ricci 6,5 Coopminers 9,5 gol ma è stato anche ammonito In attacco Scamacca 10,5 per il gol Reteghi e Immobile entrambi 5 meno mezzo punto per tutti e due dato che sono stati ammoniti E in questa partita abbiamo avuto ben 5 ammunizioni 5 ammunizioni! Non abbiamo vinto questa partita Per 5 cartellini gialli del cazzo Porca troia che nervoso! Non abbiamo vinto questa partita Per 5 cartellini gialli del cazzo Porca troia che nervoso! Comunque Andando a vedere i risultati delle altre partite Ennesima vittoria della capolista Crimine FC 2 a 1 contro la C Dolattico Per il Crimine FC Clean sheet di Audero Assist di Bastoni Gol di Di Marco e Gudmundsson Dall'altra parte invece Gol di Orsolini Gol e assist di Miranchuk Vittoria poi Di Orto Musso Degli amici di piazza 1 a 0 contro la IAX Brazorf Amici di piazza che l'ha letteralmente Sfangata Due assist Calafiori e Dunferis Dall'altra parte invece Clean sheet di Falcone Poi 5 e mezzo 6 Forse un 6 e mezzo IAX Brazorf Che non ha portato a casa Neanche un punto Dato che ha lasciato in panchina Toven dell'Udinese Che ha segnato E infine Vittoria del Pombio FC 2 a 1 contro i venditori ambulanti Per il Pombio FC Assist di Pasalic Gol di Duncan e Sanabria Dall'altra parte invece Gol di Loftus-Cic Concludiamo poi con la classifica Cremine FC Che torna a più 20 62 punti Contro i 42 Della C Dolattico Secondo Sempre più terzi Gli amici di piazza 36 Quarto posto Per il Big Teta Pig Con 34 A 32 I venditori ambulanti Penultimi con 29 Noi poveri stronzi Del nome della rosa E il Pombio FC Adesso non sto neanche qua A contare tutti quei punti Che abbiamo perso Per delle cazzate Se non li avessimo persi Non dico nessuno Però Anche solo La metà Saremmo secondi In classifica Però si sa Che i se e i ma Valgono meno di uno sputo Chiude poi All'ultimo posto L'AIAX Brazorf Con 26 Va bene ragazzi Questo è stato un po' Il riassunto Della mia giornata Del fantacalcio Fatemi sapere Cosa ne pensate Ditemi se giocate Al fantacalcio Quale è la vostra squadra E come state andando Io come al solito Mi invito A iscrivervi al canale YouTube A seguirmi su Facebook A seguirmi su Instagram A seguirmi su TikTok A lasciare un commento A lasciare un mi piace A spammare questo video In ogni singolo punto Del planisfero Detto questo Vi saluto E ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi